La prima giornata di Puliamo il mondo ad Acireale, gli operai della Dasti hanno bonificato una zona di discarica e qui ci sono gli evidenti risultati. I volontari stanno operando lungo la via Madonna dell'Aiuto e vediamo dove arriviamo, domani secondo appuntamento. Allora il problema è che non è il fatto di andare a pulire delle strade, dei parchi, il problema è proprio all'origine che è quello di non sporcare, quindi è questo proprio il messaggio che deve essere dato a tutti, quello di non sporcare. Viene anche un'acqua e c'è anche un'acqua, ma non saperebbe come bene, ma sembra un'acqua e è ricca. Se lo potete pesare e se potete farlo dalla granita è molto buona, è è un'acqua e la scala. No, perché noi siamo francesi non stavamo qui, non lo conosciamo. E ti piace tutto il paese? Si, molto, molto. Portugale è molto bello. Ah, Portugale anche, si, si. Connece? Io non ho mai stato mai, ma è bello. Si, si, Portugale è molto bello. Cambiene alcune di queste cose in Portugale, di limpiare l'ambiente? Si, si. Più o meno? Si, si. È limpio? È limpio? O in alcun momento? In alcun momento no. Ah, sapevo che ti vergognavi tanto. Posso buttarla? Posso buttarla? Si. Si. Non vogliamo. Ma certo che qui ci sono giacoli formicati. Ah, 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 ah. Ehi mamma. No, ma no. No, no, a tempo. Sporzizia. Vapè? Dei miei ricordi da ragazzino passati qua in maniera eccezionale Credo che i ragazzi di oggi non potrebbero mai passare una vita così spensierata e tranquilla in mezzo alla natura come l'ho passata io Sono stato fortunato Io adesso ho un figlio che ha 13 anni e io cerco di coinvolgerlo pure e lui è ben felice So che gli piace tanto studiare quindi gli piace stare più sui libri che andare in giro Ma questi posti se rivalutate se ritornerebbero a essere quelli che di una volta sarebbe una grossa ricchezza soprattutto per i bambini per i ragazzi Anche perché affacciandosi da qui credo che sia un posto unico in tutta la zona Qua è spaccato Non era così prima Io è da anni adesso che non vengo qua Ci sono i genitori Quindi non è solo Oggi in mare E là fino ad arrivare in fondo era tutto un vigneto Mio nonno che aveva otto figli maschi era innanzitutto il pretesto per incontrarci tutti sia i nipoti che i figli E la pandemia veniva fatta dai solo componenti della famiglia Mio nonno poi diciamo che la raccolta dell'uva finiva adesso mezzogiorno Mio nonno già preparava lo stocco alla messinese nella direzione Mio nonno che pingevamo l'uva con i piedi C'era tutta... Quella casa là in fondo che loro hanno ristrutturato Quella là non altro che un vecchio palmento Con la cantina Tutto un po' di sporcizio E anche questa zona era una zona coltivata E soprattutto Coltivata? Ma coltivata diciamo più che altro Veniva tenuta pulita C'era un po' di vigna Dei figli vigni E poi tenevano qua Dei vigni Questi cipresse Erano Dei frangivendo Perché Quando sale diciamo Il vento caldo di sciroppo Con la sassetene Bruciava le piante di limone Allora questi alberi Hanno assolto per un bel po' di tempo questa funzione Nel periodo più caldo dell'estate Siccome c'erano queste cipresse alte C'era l'ombra E si godeva della Magnifica visione Chiamato Il cutetto che sarebbero le cocole Dell'acqua grande E da questa postazione Non aveva tutta la visione del mare E nel periodo di settembre Ottobre Anche Vedevamo arrivare I rapaci Che arrivavano a decine e decine La differenza Vetro con vetro Il vetro dov'è? Alluminio con alluminio Carta con carta E una uova esaccata E una uova esaccata Ma no qui non c'è vetro Vetro qua ragazzi Qua 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 c'è un metro E qui però serviamo le mascherine Troить Troetti Questo Qua è del'aluminio Tremi Grazie a tutti. 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 Ogni dubbio svanirà, consumato in ogni giorno. Lei sarà di stelle, lui sarà vestito di stracci, uniti di strazzi. Grazie a tutti. Noi saremo gli ultimi esseri romantici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.